Altra notte di fuoco per la città di Vittoria. Due cassonetti della spazzatura sono stati incendiati in piena notte. Alle fiamme anche due vetture, una pare a causa di un cortocircuito dell'impianto elettrico. Una notte dunque di intenso lavoro per la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria, intervenuta prima per la segnalazione di due cassonetti dei rifiuti solidi urbani incendiati precisamente alle 22.35 e alle 23.15. La squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via Carlo Pisacane, Angolo e Vemilano e poi in via Roma, Angolo e via Caporale degli Zuavi. Sul posto anche i carabinieri di Vittoria. Il tutto è accaduto a pochi giorni dall'incendio che ha semidistrutto l'auto del ragioniere capo del comune di Vittoria e contestualmente l'incendio di ben sette cassonetti dei rifiuti solidi urbani. Il terzo intervento da parte della squadra dei Vigili del Fuoco è avvenuto poco dopo, intorno alla mezzanotte e mezza. I pompieri si sono spostati in via Vicenza, dove era completamente avvolta dalle fiamme un'autovettura Y10. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per i rilevi del caso ed è stato constatato che l'auto incendiata era priva di batteria. Infine, alle sette del mattino, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l'incendio di un'autovettura appena apparcata dal proprietario. In questo caso è stato escluso il dolo, si pensa che l'incendio sia stato causato da un cortocircuito dell'impianto elettrico.